Tips per far schiarire il vostro colore di capelli più velocemente questi metodi funzionano se avete un capello che è già decolorato sotto lavate e sciacquate i capelli con l'acqua calda utilizzate uno shampoo antiforfora vi sconsiglio di utilizzarlo a tutti i lavaggi perché altrimenti avrete un capello, un cuoio capelluto troppo secco quindi fate uno normale e uno antiforfora aumentate i lavaggi durante la settimana se avevate l'abitudine di fare due shampoo a settimana fatene tre, se avevate l'abitudine di farne uno, fatene due lasciare una maschera capelli in posa o tutta la notte oppure la applicate un'ora, due orette prima e poi andate a fare lo shampoo e se proprio volete togliere al più presto il colore che avete in testa fate uno shampoo americano mischiate una parte di polvere decolorante con una parte di ossigeno se volumi con il vostro shampoo abituale in una ciotolina fate uno shampoo normale, quindi massaggiate bene ma più a lungo del solito se volete che l'effetto sia più drastico imballatevi tutta la testa con del film alimentare, quello trasparente aspettate 10-15 minuti e poi andate a fare il vostro shampoo ricordatevi in questi casi di idratare bene bene i vostri capelli sempre quindi applicate sempre dopo o una maschera o un balsamo per capelli meglio che niente oppure se avete anche dei balsami per capelli senza risciacquo che non è un balsamo per capelli senza risciacquo che non è un balsamo per capelli senza risciacquo grazie a tutti